Valmieri e Vincenzo Pianese Vai Vincenzo! Vincenzo Pianese Vincenzo Pianese Vincenzo Pianese Con il numero 99 Anna Arachitico e Pietro Francesco Fidelbo Vincenzo Pianese 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 Grazie. 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 Settima posizione per la coppia contrassegnata dal numero 147 Giulia Ecaini Emanuele Bassacci dalle Marche. In stessa posizione, il numero 99, Anna De Chirico e Pier Francesco Fidelico da Napuglia. In quinta posizione si classifica la coppia con il numero 150, Arianna Feltrin, Marco Mauro da Tallo Pervia. In quinta posizione, il numero 49, Francesca Pia Pallieri e Vincenzo.